Italia 1! Buongiorno Heidi, come mai sei già in piedi? Sei caduta dal letto? Il risveglio dell'autunno? Beh, chi dorme non piglia pesci, anzi non piglia Pokémon. Comincia bene su Italia 1. Dal 10 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 6.40, Pink e Rello. Alle 6.56, Pokémon. Ciao Pikachu! Alle 7.24, Dragon Ball. Alle 7.53, Giorgi. Alle 8.19, Aya. Alle 8.19, Aya.